Ardenzi! Dica comandante Senti, piazzati davanti alla mia porta e non far entrare nessuno Scommetto che c'è una donna in camera Adesso non ti posso spiegare ma tu fa come ti ho detto Permette? Scusi, lei chi è? Sono la signora Morelli Hai capito Come ha detto scusi? No, 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 niente Volevo appunto dire che il capitano mi ha incaricato di portarla in piscina In piscina? Sì, sì, in piscina Ma lui è là? No, è in camera Allora è qua No, no, non qua Ha detto in camera Ho detto in camera? Ah sì, in camera di consiglio Ha una riunione con lo Stato Maggiore Quindi ha pregato me di accompagnarle in piscina Quello che non capisco è perché proprio in piscina Ma sa come sono i comandanti? No, come sono? Come tutti i comandanti Prego, per di qua Grazie a tutti i comandanti